Non si arresta la nuova catena di contagi in Valle Peligna. Il balzo sulla curva viene certificato da bollettino odierno del Covid poiché sono stati messi a referto ben 11 nuovi casi di coronavirus in Valle Peligna, 5 a Sulmona, 5 a Raiano, 1 a Pratola, Peligna. Si tratta di contagi attesi poiché riferiti a soggetti posti in sorveglianza dalla ASL, isolati nell'ambito delle operazioni di tracciamento che hanno interessato i due focolai esplosi di recente, quello dei professionisti del 110 e quello che coinvolge le scuole. I nuovi positivi hanno dai 62 ai 6 anni di età la metà di loro, ovvero 6 su 11, sono studenti. Non si è resa tuttavia necessaria l'attivazione di una nuova quarantena per le classi di riferimento, mentre sono stati posti in sorveglianza solo i contatti stretti degli studenti contagiati, in linea con la recente normativa, grazie a un'efficace e tempestiva ricostruzione da parte della prevenzione ASL e del Polo Video. In città sono finiti nella casella dei positivi un 33enne e una 62enne, madre e figlio, entrambi legati in qualche modo al fronte dei professionisti, ancora una bimba di 6 anni e una donna di 40 appartenenti allo stesso nucleo familiare legati al contagio da ritorno, positivo anche uno studente sul Monese di 16 anni. Raiano ha contagiato una famiglia di 3 persone di 52, 17 e 44 anni. Nel centro Peligno sono risultati positivi altri due studenti di 18 e 14 anni. Prattora Peligno assegna un nuovo caso che riguarda una giovanissima di 15 anni legata al fronte dei professionisti e alle 7 classi del Polo Video che erano state poste in isolamento per la positività di una docente. Ieri salita i numeri della pandemia. Sono 46 le attuali positivi in centro Abruzzo, 3 guariti nelle ultime ore, 125 sorvegliati più 41 rispetto a ieri, mentre restano 2 i degenti. Il balzo sulla curva fa schizzare l'indice di contagio sul territorio, ma si sta lavorando per assestare nuovi fronti, visto che i contatti stretti sono stati tracciati. Molto dipende anche dalla collaborazione degli utenti e dalla consapevolezza del rischio. Avanti tutta, infine, con le inoculazioni all'incoronata, oggi sono state somministrate 161 dosi, comprese quelle effettuate in ambiente protetto.